CGL, CISL e UIL Calabria, unitamente alle rispettive categorie, esprimono la loro determinazione a proseguire con decisione il confronto con le istituzioni regionali e nazionali per trovare una soluzione definitiva all'avvertenza che coinvolge i lavoratori della Abramo Customer Care. La situazione vede coinvolte centinaia di lavoratori, il cui futuro occupazionale è appeso a un filo. Le organizzazioni sindacali hanno partecipato a due incontri con il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto, durante i quali è stato illustrato un percorso di azioni per affrontare e risolvere la difficile situazione. Da sempre riteniamo fondamentale il coinvolgimento delle istituzioni e di tutti gli attori coinvolti per costruire un processo di risoluzione rapido, condiviso e incentrato sulla tutela dei diritti dei lavoratori. Una delle proposte emerse riguarda l'impiego dei lavoratori nel processo di dematerializzazione delle cartelle cliniche e la loro integrazione nei fascicoli sanitari elettronici, un'attività strategica per il miglioramento dei servizi sanitari regionali. L'idea di inserire questi operatori nel percorso Dunamis, sfruttando gli incentivi all'occupazione, aggiungono i sindacati, rappresenta un'opportunità concreta per offrire stabilità lavorativa. Resta fondamentale il confronto a livello nazionale. Confidiamo che, in occasione del tavolo di discussione convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si possano fare passi avanti decisivi. È essenziale che in quella sede non si frappongano ostacoli da parte del Ministero e dei commissari coinvolti nel processo, poiché qualsiasi ritardo o impedimento rischierebbe di compromettere il futuro occupazionale dei lavoratori dell'Abramo Customer Care.